Dopo una caccia all'uomo durata tutta la notte scorsa, Abdeslam Laswed, l'attentatore tunisino che ieri sera ha ucciso due uomini di nazionalità svedese a Bruxelles, è stato individuato stamattina dalla polizia in un bar nel quartiere di Starbeck, proprio nei pressi della sua abitazione, ed è morto dopo un conflitto a fuoco con la polizia belga che sta dando la caccia ad altre due persone. A Bruxelles il livello di allerta è massimo, intanto il ministro dell'interno piante dosi non informativa alla Camera e esprime preoccupazione per il rischio anche in Italia di radicalizzazioni islamiste. Al momento non risultano evidenze concrete ed immediate di rischio terroristico per quanto riguarda l'Italia, ma la situazione è tale da richiedere un elevatissimo livello di attenzione in quanto la minaccia terroristica si presenta spesso in maniera impalpabile, fluida e non sempre definibile a priori. Domani il presidente degli Stati Uniti Joe Biden arriverà in Israele, una visita per manifestare sostegno ma anche per fare pressione su Netanyahu affinché consenta l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. La presenza di Biden dovrebbe ritardare l'offensiva di terra nella striscia che a quanto pare non è l'unica opzione. Ci stiamo preparando per le prossime fasi della guerra, ha detto oggi il portavoce dell'esercito che ha aggiunto tutti parlano dell'offensiva di terra, potrebbe essere qualcosa di diverso. Non si fermano intanto i razzi di Hamas da una parte e i raid di Israele a Gaza, mentre si alza ancora la tensione al confine con il Libano. Il villaggio israeliano di Metullah è stato colpito da una raffica di colpi. L'esercito di Tel Aviv va risposto bombardando le colline libanesi al sud. Se Hezbollah farà errori reagiremo in modo potente, fa sapere. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per un faccia a faccia con l'omologo cinese Xi Jinping in programma domani. Al centro del colloquio il conflitto russo-ucraino e la crisi in Medio Oriente con entrambi i paesi schierati con decisione per un cessate il fuoco immediato e l'apertura di negoziati per la creazione di uno stato palestinese. Sulla guerra in Ucraina il presidente russo ha dichiarato che la Russia è pronta ad avviare negoziati con Kiev sulla base delle proposte cinesi che considera realistiche. L'Ucraina intanto annuncia la distruzione della notte di nove elicotteri e infrastrutture russe in due aeroporti occupati a Lugansk e Berniask con decine di soldati russi uccisi o feriti. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Milano contro il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. 59 le persone arrestate, sequestri per 129 milioni di euro. Le accuse vanno dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti al riciclaggio passando per l'esercito abusivo del credito e la frode fiscale. Il 2023 si classifica fino ad ora al primo posto tra i più caldi mai registrati nel pianeta con la temperatura sulla superficie della Terra e degli oceani addirittura superiore di 1,1 grado rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni dei dati relativi ai primi nove mesi dell'anno della banca del National Climatic Data Center che registra le temperature mondiali dal 1850. Un clima che ha causato un'annata nera per l'agricoltura italiana con danni che, tra coltivazioni e infrastrutture, supereranno i 6 miliardi dello scorso anno.